Musica Sulla base dei rilevi mossi dalla Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica sul rendiconto della regione toscana per l'esercizio finanziario 2019 i direttori vengono collocati di nuovo nella dotazione organica della giunta regionale definendone il relativo trattamento economico La legge è stata approvata con 24 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti Il risultato che si è raggiunto in consiglio regionale con l'approvazione della legge sul personale è un risultato importante, direi quasi straordinario per le modalità con le quali si è giunti a questo risultato Io rivendico nella mia veste di Presidente di Commissione di aver articolato i lavori della Prima Commissione in modo tale da rivendicare in maniera anche prepotente la dignità e il ruolo che deve avere il Consiglio regionale che deve avere anche l'attività che si fa in Commissione per l'approvazione delle leggi L'indirizzo politico che avevamo maturato che avevo maturato io come Presidente di Commissione ma che aveva maturato anche il gruppo del Partito Democratico era quello di dar vita ad un atto che fosse esclusivo recepimento delle indicazioni che c'erano arrivate dalla Corte dei Conti nel riportare le figure dei direttori e poi anche quella del Direttore Generale e del Segretario del Consiglio regionale nella pianta organica dei dirigenti e così è stato fatto le uniche disposizioni che escono da questa approvazione sono il recepimento delle indicazioni della Corte dei Conti tutto quello che era estraneo a quelle indicazioni non è più contenuto nel testo di questa legge questo è il risultato di un'importante attività che si è svolta in prima Commissione e poi anche in Aula e questo soprattutto è il risultato di una ampia rivendicazione della dignità e del ruolo dei consiglieri regionali nell'esercizio della propria funzione legislativa Noi non abbiamo partecipato al voto non abbiamo partecipato al voto in quanto siamo arrivati alla fine di un iter che abbiamo definito in Aula quasi come un telefilm a puntate questo è un provvedimento che è nato per adeguarsi a delle prescrizioni della Corte dei Conti e è diventato un terreno di scontro di fatto all'interno della maggioranza un terreno di scontro che si è consumato appunto in Commissione attraverso una serie di tappe, di sedute che poi tra scontri più o meno latenti hanno portato al testo che è arrivato oggi in Aula quindi come dire una partita interna vedremo se poi il ruolo delle commissioni che è stato anche fortemente rivendicato dal Presidente Bugliani sarà e sarà mantenuto diciamo al centro dell'attività legislativa senza ulteriori tentativi di forzature da parte della Giunta oppure se assisteremo da qui ai prossimi mesi ripeto a un ulteriore scontro al quale noi diciamo come opposizione sicuramente insomma ci apprestiamo ad assistere è una legge importante che dà autonomia alla politica che consente di nominare ai vertici delle strutture regionali persone che hanno merito, competenza, professionisti che possono guidare quindi i ruoli apicali delle direzioni aziendali della nostra regione degli assessorati quindi merito e competenza che tornano protagonisti supremazia della politica come corretto che sia perché il mandato degli cittadini è nelle mani dei loro rappresentanti politici che però hanno possibilità anche di revocare i dirigenti di interrompere le loro attività o periodi di durata delle nomine che possono variare dai 3 ai 5 anni e anche possibilità di farle anche dopo 60 giorni dell'insediamento quindi ci sono degli elementi positivi noi siamo stati fondamentali per fare in modo che questa legge arrivasse in aula e fondamentali per fare in modo che questi articoli che sono poi il cuore principale della modifica legislativa venisse poi approvata quindi rivendichiamo con forza il nostro ruolo e quindi rivendichiamo che la politica può appropriarsi diciamo di una squadra propria nel momento in cui molte volte la burocrazia o le funzioni tecniche sono dei limiti alle azioni anche legislative e di relazioni con i cittadini allo sviluppo delle imprese per rispondere alle esigenze dei toscani era un adeguamento dovuto una richiesta della Corte dei Conti su cui si è montato un caso nazionale abbiamo visto il presidente Bugliani e il presidente Gianni litigare becchettarsi in consiglio rimandare questa legge che ha subito emendamenti e contro emendamenti era semplicemente una legge di adeguamento una richiesta della Corte dei Conti da fare in cinque minuti il Partito Democratico in Toscana è riuscito a montarci sopra un caso e a farlo durare due mesi alla fine la legge è comunque arrivata in aula noi ci siamo astenuti proprio in virtù del fatto che fosse una legge da una parte dovuta ma dall'altra che ha subito un iter diciamo poco chiaro almeno così però ecco non passi il messaggio che la regione sta facendo nomini o che nominerà nuovi direttori era semplicemente un adeguamento dovuto a una richiesta della Corte dei Conti Voto unanime del Consiglio che approva la revoca della Commissione Speciale sui Vaccini sarà la Commissione d'inchiesta ad occuparsi della gestione della pandemia vivo il dibattito in aula Oggi in Consiglio regionale è andata in scena una farsa nel senso che il Consiglio regionale ha revocato la Commissione Speciale sui Vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa perché fino ad oggi soltanto col voto contrario dei Fratelli d'Italia nacque questa Commissione non sono riusciti ad eleggere il Presidente e quindi è stata sposata da tutto il Consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione d'inchiesta su la pandemia e sui vaccini perché? Perché noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi in particolar modo sulla campagna vaccinale ma in generale sulla gestione della pandemia perché ahimè la gestione della campagna vaccinale della regione toscana è stata alla ribalta del palinsesto nazionale TV e dei giornali italiani perché ci sono stati personaggi molto noti che in Toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce non vogliamo processare nessuno non vogliamo processare nemmeno l'assessore Bezzini che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso non vogliamo processare nemmeno il presidente Gianni che altrettanto si è smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi creando soltanto confusione caos e insicurezza nei confronti dei cittadini però vogliamo capire che cos'è successo cos'è successo con i medici di famiglia che avevano dato la disponibilità a vaccinare a novembre e sono stati chiamati soltanto a marzo cos'è successo con i card giver cos'è successo con i centri vaccinali aperti e chiusi con le confusioni che succedevano ecco pensiamo che su tutto questo fosse necessario accendere un focus e che lo strumento esatto fosse la commissione d'inchiesta come da noi proposta è accaduta una cosa un po' strana l'opposizione con otto firme può chiedere la commissione d'inchiesta aprile scorso su richiesta della Lega quale noi abbiamo dato seguito è stata istituita invece una commissione speciale per seguire l'andamento della campagna vaccinale il Partito Democratico ha dato subito i membri che dovevano farne parte soltanto per ritardi legati all'opposizione la prima commissione è stata fatta solo l'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stata l'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria io sono stato nominato presidente provvisorio e anche lì ovviamente i candidati si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità quindi in tema c'è stata una contrapposizione fra Fratelli d'Italia e la Lega sulla scelta dello strumento sul quale evidentemente poi è venuto fuori questa contrapposizione che ha portato a nulla per quanto ci riguarda abbiamo sempre detto che ci tenevamo e ci teniamo a seguire a dare un contributo alla campagna vaccinale tant'è che noi già dal mese di marzo tutti giovedì audiamo l'assessore Bezzini e il direttore generale dell'assessorato per monitorare l'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale ci importano più risultati al di là degli strumenti ora è stata istituita sul richiesto dell'opposizione ma l'avrebbero potuto fare sempre perché con otto firme che sono ovviamente nella disponibilità dell'opposizione è stata istituita la commissione d'inchiesta cosa che poteva essere fatto anche a aprile ovviamente senza il contributo della maggioranza su questo è chiaro visto che è uno strumento a garanzia dell'opposizione vedremo noi intanto come terza commissione io sono il presidente e continuiamo con il nostro lavoro quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione ma voglio dire di tutto il consiglio ai lavori che erano stati programmati dalla giunta sul piano vaccinale e che non procedevano come i cittadini si aspettavano anzi non procedevano per niente sappiamo che siamo stati all'ordine del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni di tardo degli over 80 con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare non aveva diritto quindi la nostra proposta andava in quel senso è evidente che bisogna avere idee e bisogna metterci la faccia quando uno vuole dare un contributo quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile poi però la maggioranza che aveva la maggioranza in quella commissione ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza sappiamo che ci sono state anche scaramucce all'interno della maggioranza tra Italia Viva e il PD e quindi si è arenata praticamente subito e oggi che non è più il tempo della commissione speciale perché la campagna vaccinale ha proseguito e quindi molti dei nodi sono stati snodati secondo noi nemmeno benissimo siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione di inchiesta quindi convintamente abbiamo firmato la commissione di inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato noi siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione questo ci va riconosciuto un cambio di passo che c'è stato attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante abbandonato il click day dato risposta alle categorie che più di altre avevano bisogno sono state date risposte in tempi a questo momento certi abbiamo riscalato i regolatori a livello nazionale siamo arrivati a vaccinare per primi ragazzi maturandi si sono date risposte importanti gli hub sono aumentati le imprese hanno dato la risposta e credo ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato della medicina di base quindi nel complesso la campagna di vaccinazione che va detta la verità non era iniziata bene poi sta proseguendo bene e quindi a questo punto la commissione speciale sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio quindi i risultati sono ottenuti a questo punto da parte nostra il lavoro che potevamo fare è terminato il lavoro è standardizzato anzi deve continuare il lavoro dei medici degli infermieri perché non è finito e quindi credo che la politica faccia bene a portare rispetto a chi poi tutti i giorni negli hub vaccinali ci va quindi io credo che sia il momento non tanto di fare le inchieste quanto di ringraziare chi tutti i giorni fa vaccini come il Movimento 5 Stelle abbiamo capito che forse era meglio istituire e partecipare alla richiesta di una commissione di inchiesta anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinali sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali qui si tratta di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando e soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno ma per cercare di risolvere delle criticità che si potrebbero ripetere in una successiva ondata pandemica l'aula approva all'unanimità una delibera che destinerà attraverso un bando aperto alle associazioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata e rivolta ai giovani 75 mila euro per creare una grande muraglia contro il pericolo delle infiltrazioni mafiose così dichiara il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo sono felice ed orgoglioso che il consiglio regionale abbia approvato all'unanimità una mia proposta condivisa con tutte le forze politiche utilizzare i rimborsi derivanti dal periodo del lockdown dei consiglieri regionali e metterli a disposizione di un grande progetto culturale contro le infiltrazioni mafiose lo abbiamo voluto con forza è un modo per aiutare i ragazzi e le ragazze a collaborare insieme a noi per ergere un muro contro le infiltrazioni mafiose un progetto culturale che vogliamo portare nelle scuole della Toscana un modo per vaccinare le ragazze i ragazzi toscani a creare un argine contro le infiltrazioni mafiose tutto questo lo abbiamo voluto insieme a tutte le forze politiche e questo è un risultato importante e vogliamo costruire questo grande progetto insieme alle scuole e alle associazioni che operano sul territorio toscano la cifra è 75 mila euro che noi metteremo a disposizione attraverso un bando a tutte quelle associazioni che si sono occupate della lotta alla mafia alla criminalità organizzata in questi anni approvata dal consiglio regionale all'unanimità una mozione per garantire i presidi scolastici nelle aree interne rurali parzialmente montane con questa mozione noi abbiamo chiesto un forte impegno in conferenza Stato-Regione affinché si possano rivedere i parametri del DPR 81 da dire quello che dà indicazioni per la formazione delle classi oggi già questo decreto prevede delle deroghe per quanto riguarda le aree meno popolate ma comunque un numero minimo di 10 ragazzi purtroppo il nostro paese è ormai da anni afflitto da un decremento della popolazione e a soffrirne sono di più le aree marginali siano esse delle isole oppure delle aree interne siccome la regione è impegnata su più fronti con progetti tesi a ridurre la spopolazione e a garantire servizi essenziali anche alle popolazioni che vivono in queste aree più marginali e disagiate riteniamo opportuno che possano essere rivisti questi parametri in maniera tale da poter garantire comunque il mantenimento delle classi anche in queste realtà di Grazie a tutti.